Buongiorno e bentrovati con Un mattino 6 la nostra rassegna stampa in questo lunedì 8 agosto 2016 che segue una domenica che ha visto finalmente il caso di dirlo lo sviluppo della notte bianca a Pescara dopo una serie di rinvii. L'ultimo c'era stato nel tardo pomeriggio di sabato, rinvio di 24 ore, poi ieri sera la notte bianca c'è stata. E chiaramente nei notiziari di quest'oggi vi proporremo dei servizi relativi, anche degli approfondimenti sugli spettacoli che hanno caratterizzato la notte bianca dell'Adriatico. Ma chiaramente in questa mattinata, come tutti i lunedì, spazio in particolare allo sport. Nella seconda parte vedremo le immagini e le interviste relative all'ultima amichevole del Pescara, quella giocata a Castel di Sangro sabato sera contro il Seltavigo. E poi parleremo anche dell'amichevole di ieri del Teramo a Pineto. Servizi e interviste anche in questo caso. Però iniziamo la nostra rassegna stampa come sempre con le principali notizie che arrivano dai quotidiani nazionali, con le prime pagine. Possiamo partire con il Corriere della Sera. Tensione e arresti a 20 miglia. Arrivano i rinforzi, caos per i profughi al Viminale. Il Viminale invia più agenti. Poi vediamo l'editoriale di Ferruccio De Bortoli, la riforma necessaria dei partiti prima del referendum. Ma a caratterizzare la prima pagina c'è anche la fotonotizia divisa in tre perché arrivano le prime medaglie per l'Italia nelle Olimpiadi di Rio. Ci sono due ori, vittorie nel Judo e nel Fioretto. Poi c'è l'argento della coppia Cagnotto-Dallapè e poi via via tutte le altre medaglie. Altri due argenti che arrivano dal Judo. Quindi insomma una giornata assolutamente proficua per i colori azzurri. In taglio medio, Turchia. Erdogan mostra i muscoli. Un milione in piazza per lui. Il Sultano sfida l'Europa sì alla pena di morte. Poi in basso sempre lo sport ma il calcio stavolta all'Inter con Mancini è finita. Rottura tra il tecnico e la società in arrivo come allenatore lolandese De Boer. Andiamo avanti con la Repubblica che apre così. Il caos 20 miglia al Fano non sarà la nostra calè. Tensione sui migranti, sei arresti dopo gli scontri. Il ministro, invasione se la Turchia apre le frontiere. E a proposito di Turchia, la fotonotizia è proprio dedicata alla Turchia. Erdogan sfida l'Unione Europea sui diritti. Pena di morte, pronto al sì. E poi ancora le idee. Cinque medicine per curare la malattia delle banche. Ancora andiamo a vedere questi richiami per la politica. Cannabis e testamento biologico. Addio alle leggi. E poi il caso. L'Isis rivendica. Assalto in Belgio. L'attentatore era un irregolare già espulso. E poi ancora ecco la guerra mondiale dei boss. L'Andrangheta cancella la mafia. L'inchiesta ai nuovi padroni del crimine. E poi ancora in basso. Rio, i ragazzi d'oro dell'Italia. Basile nel judo. Garozzo nel Fioretto. E poi Argento, Cagnotto. Dall'Ape nella disciplina dei tuffi. La prima pagina della stampa. Che andiamo a vedere in questo momento. Diritti. Svolta Apple. Stessi stipendi per uomini e donne. Silicon Valley. Team Cook accelera sulle pari opportunità. Cupertino. Colmeremo il divario. In Italia la differenza è del 10,9%. Poi anche in questo caso i primi due ori dell'Italia conquistano la fotonotizia. Basile e Garozzo coprono d'oro l'Italia. I giochi piogge di medaglie azzurre, titoli da giudo e fioretto. Tuffi d'argento per Cagnotto e Dall'Ape. Peraltro l'oro di Basile è stato il duecentesimo per l'Italia nella sua storia alle Olimpiadi. In taglio medio accordi con l'Unione Europea per salvare le banche. La ricetta di Bini Smaghi. Ristrutturare gli istituti di credito per rilanciare il capitalismo. Poi in basso Sara Jessica Parker. Torno in TV con un divorzio. Intervista all'ex protagonista di Sex and the City. Ma il mio matrimonio dura da 20 anni. Avanti ancora con la prima pagina di Libero. Dopo averli invitati a messa, gli islamici sputano su Gesù. Sempre forte il titolo d'apertura di Libero. Quattro donne velate entrano in una chiesa di Venezia. Pochi passi da San Marco e offendono il crocifisso. Altri prendono l'ostia e poi la buttano a terra. E c'è chi stende il tappeto e prega Allah. Il Papa lo permette. A 20.000 centri sociali e profughi sfidano la polizia. Agenti furiosi dopo la morte del collega. E poi Zonin, ex presidente della Pop Vicenza. Ne ha sbancati 120.000 e in ferie a Panarea. E poi a noi la Fornero, a loro i privilegi. Gli eurocrati vanno in pensione a 58 anni. Quindi per lo sport i cinesi rompono con Mancini. L'Inter tratta la super buon'uscita. Il Fatto Quotidiano. L'apertura senza pietà indagato per Cucchi promosso. Il carabiniero accusato di falsa testimonianza festeggia su Facebook. Sotto la testata Oxford. Il dossier che spaventa Roma 2024. Olimpiadi costi boom del 176%. Lo studio Renzi stalker con l'azzurra. Fiammingo. Poi ancora Turchia. Erdogan 3 milioni in piazza. Rilancia la pena di morte. Grande folla ruolata contro i golpisti. Storia di copertina. L'uomo sandwich di Palazzo Chigi. Da Italia a Farinetti fino a Grom. Tecnogim. Marchionne alla Fiat. Armani e Apple. Il premier testimonial di un numero crescente di aziende private. Spesso legate ad amici. Poi ancora in basso tra le mani cari lettori vi odio ma per fortuna leggete manie folie e nevrosi mode di chiama comunque i libri. Chiudiamo con la fase nazionale vedendo la prima pagina del messaggero che dedica l'apertura ai fatti di Ventimiglia. e quindi migranti, tensione ai confini, 20 mili arrestati, 6 antagonisti con spranghe e coltelli. C'è allerta anche alla frontiera svizzera gli 007. Regia dietro alla protesta degli extracomunitari bloccati ai valichi. Il Viminale manda rinforzi. E poi sotto la testata il personaggio è morto Pitangui. Da Brigitte Bardot fino a Madonna era il guru del lifting. Calcio svolta all'Inter. Mancini esonerato al suo posto. Arriva De Berre, ex Ajax. La fotonotizia anche in questo caso dedicata alle Olimpiadi. A sorpresa anche un bronzo nel ciclismo femminile su strada. Arrivano i primi due ori azzurri. Basile nel Judo e Garozzo nel Fioretto. L'editoriale di Alessandro Orsini, si parla di politica estera. I profughi e il ruolo di Ancara, gli errori di Merkel. In taglio medio la procura accederà sul caso Muraro, ma il Movimento 5 Stelle la difende. Inchieste, rifiuti, PM sentiranno l'assessore. Il direttorio intoccabile, gelo della giunta. E poi in basso, Piazza Navona, va in scena la Barbarie. Il reportage, ordinaria notte di follia romana fra topi e ubriachi. Lasciamo il messaggero. Ora andiamo a vedere le pagine dei quotidiani locali. Iniziando dalle prime pagine del centro. Siamo sul centro dell'Aquila. Valentina, terzo giorno di angoscia. Si continua a cercare la 22enne fuggita dopo un rimprovero. Poi la fotonotizia al centro. Giostra d'Europa vince la Grecia, ma quanti brividi per una caduta. Momenti di paura a Sulmona. I richiami di cronaca. Call center demanzionati, 14 operatori all'Aquila. Ad Avezzano l'inaugurazione. Nuova pista ciclabile aperta a Tagliacozzo. E poi, sempre nella cronaca di Avezzano, San Bartolomeo, primi 5 ospiti alla residenza per anziani. Tornando all'Aquila, addio a Paolo, angelo del 118. L'Aquila, cordoglio per la morte del paramedico di Camarda. Il buongiorno Abruzzo, in questo caso, è curato da Diana Pompetti, le calciatrici di Serie A con i disabili. Prima pagina dell'edizione di Chieti. Tre parcheggi sotterranei a Chieti. Raggiunta l'intesa comune de Magno per la riqualificazione della città. E poi, il maltempo nel Chietino, nella notte tracima il fiume Foro, danni ingenti nell'Ortonese. I richiami a Lanciano, manca il calcio, lo stadio apre ai concerti, la svolta del sindaco. E poi, onda truffata, il PM chiede il processo per Di Lorenzo. A Vasto, direzione sud, schianto in A14, coppia salva per Miracolo. Sempre a Vasto, circondati da dieci cinghiali, turisti spaventati a Punta d'Erci, copagri, avvisate i cacciatori. Prima pagina di Teramo, pensionata, gratta e vince 500 mila euro. Per una volta un titolo d'apertura assolutamente positivo. Giulianova, 72 anni, di Mosciano, rischia di svenire e poi offre da bere, beata lei. Allora, al centro, la fotonotizia, Teramo, due reti al Pineto e Amadio prolunga il contratto. Il test dei biancorossi con la foto dell'attaccante Luca Forte qui al centro pagina, inseguito da un difensore del Pineto. I richiami di cronaca, Isola del Gran Sasso, in 1500 a piedi sotto la pioggia per San Gabriele. Ad Atri, centro turistico, revocata la gestione, a Rosetto e Rolotta, fuoco sulla rampa dell'autostrada. Notte, con la paura di morire, ritrovati in una grotta, i due fungaioli dispersi. Ore terribili. E ora la prima pagina del centro di Pescara. Dopodiché inizieremo a sfogliare le pagine del centro. Il titolo d'apertura è il seguente. Maxi causa di trave al comune. La società idile chiede 2,3 milioni di danni per l'ex cinema Capitol. Poi vi ho detto della Notte Bianca in apertura. Ecco qui la fotonotizia. Ruggeri e Placido che spettacolo la Notte Bianca di Pescara in migliaia per l'evento sulle due riviere. E poi i richiami. L'ACA contro il sindaco. Danno subito riparato. La ricerca, l'Ateneo studia il comune. Pochi dipendenti. Il comune è quello di Montesilvano. Per il calcio il Pescara sabato con il Frosinone in Coppa Italia. Frosinone che ieri ha battuto il Como seccamente qualificandosi appunto per il terzo turno dove se la vedrà con il Pescara. Deco condanna per i rifiuti smaltimento a Collecese. La ditta deve pagare 500 mila euro. Possiamo entrare all'interno delle pagine del centro. Pagine dell'Abruzzo. L'anno nero del grano. Prezzi giù. Settore a rischio. Dino Scalamino della CIA dice se continua così faremo lo sciopero della semina sotto accusa del vertiginoso aumento dell'import di cereali esteri. Tracciabilità del prodotto. Sicchetti vogliamo una filiera certa. Una tracciabilità della provenienza del grano con il quale sono prodotti la pasta e il pane. E poi si salvano i grani tipici. Parla Catiuscia Sissa di Palombaro. Grano Solina, Farro e Senatore Cappelli. Non vendiamo ai grossisti. Il prezzo finale lo faccio io. E poi in basso e la trebbiatura diventa un evento internazionale. All'Oreto a Prutino. La festa di Rustichella con invitati da tutto il mondo. abbinata a un tour turistico e vediamo il tutto immortalato tra gli altri dalle telecamere del nostro Gaetano Tereo di Vestina News che è ritratto anche in questa foto. Andiamo avanti. Porti. L'Abruzzo punta sull'alleanza col Tirreno. D'Alfonso conferma l'intenzione di chiedere il passaggio dall'autorità di Ancona a quella di Civita Vecchia. ma bisogna attendere il decreto in gazzetta. E poi la cronaca di Pescara. Abbiamo visto già il titolo d'apertura. Il cinema storico abbattuto. Trave chiede al comune 2,3 milioni per l'ex capital. La società di costruzioni cita in giudizio lente con richiesta di risarcimento danni per aver bloccato il progetto di un nuovo edificio in Viale Regina Margherita. Oggi appunto è un negozio di abbigliamento. Poi ancora in basso la DECO deve pagare 500 mila euro l'impresa condannata per i rifiuti smaltiti a Colecese senza trattamento. Guasto subito risolto. Inquinamento minimo. Torniamo ai fatti dello scorso fine settimana quando il comune ha dovuto emanare un divieto temporaneo di balneazione per lo sversamento di acqua e refle per via di questo danno procurato. Insomma dal mancato funzionamento di una elettropompa fogna in tilt per 20 minuti e male vietato l'amministratore H risponde al sindaco manutenzione costante. Gli allarmi per le rotture li ho messi io prima non c'erano. E poi depuratori mezza provincia e fuori limite i risultati corretti dell'Arta. Il comune assume 15 vigili urbani solo per l'estate. Avanti ancora notte bianca folla per Ruggeri che accende la festa della notte bianca pienone al concerto del cantante al recital di Placido. Il rinvio dell'evento non ha scoraggiato giovani e adulti. Avanti ancora l'università studia il caso Montesilvano ma anche il personale tre tesi di laurea dedicate al comune. Le studentesse calcolano la produttività dei dipendenti sono troppo pochi. E poi ancora la pagina di Chieti. Piano grandi opere. Rivoluzione auto. Tre parcheggi sotterranei. Chieti intesa comune. De Magno per la riqualificazione urbana. Il progetto entro agosto. Di Felice. Ottimista sui fondi. E poi di spalla vediamo Onda truffata. Chiesto il processo per Di Lorenzo. Turisti circondati dai cinghiali. A vasto visitatori spaventati a Punta Derci. Laco Pagri. Chiamate i cacciatori. Pagine dell'Aquila e di Teramo. All'Aquila angoscia per Valentina. Scomparsa da tre giorni. La 22enne è fuggita di casa portando via un borsone. Ricerche senza esito. L'allontanamento dopo un banale rimprovero per aver maltrattato il gatto. Il telefonino resta spento. Sul Mona. Giostra d'Europa. Vittoria alla Grecia. Tra i brividi. Brividi per questa caduta del Cavaliere Alberto Liverani. Come leggiamo dalla Didascalia. Call center. Doccia fredda per 14. Dovranno accettare il demanzionamento per ottenere la riassunzione. E poi a Camarda. Addio a Paolo. L'angelo del 118 fu attivo nei soccorsi del post terremoto. Oggi appunto l'addio. E a Tagliacozzo pista ciclabile in via delle macchie. Tanti bambini sui pedali. Ieri mattina per il nuovo percorso. Pagina di Teramo. La dea bendata Giulia Nova pensionata gratta e vince i 500 mila euro al Bartabaccheria. L'angolo una 72enne di Mosciano rischia di svenire alla vista del biglietto. E poi offre da bere a tutti. Ecco qui le foto della tabaccheria dove è stato vinto questo premio da 500 mila euro. In basso, notte nella grotta con la paura di morire. Rintracciati due fungaioli dispersi. Abbiamo creduto di non farcela. Soccorso pure un escursionista. Lasciamo per ora il centro. Andiamo al messaggero. Messaggero Abruzzo. Il titolo d'apertura è dedicato alla giovane scomparsa all'Aquila. L'Aquila in ansia per Valentina. Nessuna traccia della ragazza di 22 anni scomparsa venerdì notte accese di preturo. Ricerche ostacolate dalla pioggia. Il fidanzato non ha mai detto che voleva andarsene. E poi sotto la testata. Giorno e notte. Desio De Gregori, Finardi e Drupi al Blue Bar Festival di Francavilla. Le amichevoli. Teramo, San Nicolò e l'Aquila test incoraggianti. Calcio. Pescara si chiude per Silva. Sebastiani garantisce rinforzi. Oggi l'incontro con il Torino per la firma del contratto con il centrale. Il patron rassicura sul potenziamento dell'organico per mister Oddo. E poi ancora Porti, Pescara e Civitavecchia preparano il matrimonio d'Alfonso. E' tempo di lavorare all'atto per lasciare il sistema Ancona. E poi anche in questo caso la fotonotizia dedicata a quello che è successo a Giulianova. Colpo grosso con il miliardario settantenne gratta e vince. Mezzo milione. E poi ancora anziani nel mirino. Escalation di truffe a Pescara. Centinaia di vittime nei primi sei mesi dell'anno. La polizia in campo. Non aprite agli estrani. Chieti, la palestra sotto accusa. Entriamo all'interno del messaggero Abruzzo. Subito la cronaca di Pescara. Che vediamo. Anziani truffe a raffica. La polizia in campo. Non aprite a estranei. Tra le zone più colpite. Pescara. In base ai dati del Viminale. Dopo gli ultimi due casi. Parte la campagna del Ministero. Tra i consigli evitare i pretesti per farsi accompagnare a casa e chiamare le forze dell'ordine in caso di pericolo. E poi ancora in corso le indagini sulla coppia derubata di oltre 20 mila euro sulla donna vittima del trucco del PC. Pescara arrivo. Ruggeri salva la notte bianca. E questa è la foto con cui il cantante e cantatore ha dato la notizia che sarebbe arrivato a Pescara per cantare. Era a Polignano nel Barese per un altro concerto e poi dopo rapidi contatti frenetici è arrivato l'ok per il suo concerto a Pescara e con questa foto ha annunciato che sarebbe arrivato mentre faceva questo idromassaggio. E poi ancora vigili rinforzi in arrivo da Francavilla e Roseto per fronteggiare l'emergenza stagionale. Andiamo alla pagina dell'Aquila. Dalla ragazza scomparsa ancora nessuna traccia. Finora vuoto le ricerche fatte anche con l'utilizzo di un elicottero. Tra gli investigatori sta prendendo piede l'ipotesi che la fuga sia stata premeditata. Assai accese sul caso le discussioni tra i giovani aquilani che frequentano i social network. Col center salvo la pezzo pane, ci ho messo la faccia. E poi ancora in basso riaperto finalmente l'info point a Piazza Duomo. E poi quest'altra notizia, Aquilane, le luci della cerimonia olimpica a Rio. Avanti ancora cade un cavaliere paura alla giostra. E' anche arrivata l'ambulanza in Piazza Garibaldi ma poi il finalista è uscito dal campo di gara sulle proprie gambe. A correre da solo è stato il portacolori del Sestier di Porta Manaresca che ha portato la vittoria Chitera, Grecia e Villalago. Sotto gli occhi attenti della regina Giovanna, dame e cavalieri hanno sfilato con incedere elegante. Avanti ancora con le pagine di Chieti e Teramo. La nuova palestra di Brecciarola, uno spreco da 300 mila euro. Denuncia del Movimento 5 Stelle. La struttura è totalmente in disuso. Per Argenio e d'Arcangelo l'impianto è irregolare sotto il profilo sportivo. Il duro attacco è una scatola vuota e inutile costruita grazie a fondi pubblici comune colpevole. Finiamo di vedere le pagine di Chieti e Teramo e poi andiamo con il break meteo con Giovanni De Palma. Giù nel fiume con l'amico diciottenne denunciato a San Salvo. Non ha la patente ma prende l'auto del papà. Entrambi vivi per miracolo. Il nodo sicurezza. E poi in basso, asilo nido, iscrizioni aperte, ecco le tariffe del comune ad Ortona. A Teramo, la pagina di Teramo. Troppe strade pericolose, vigili urbani da rinforzare dopo gli incidenti mortali di Nicola Puliti e Diana Scarpantonio. Esposto in prefettura dei residenti, San Nicolo è il punto più critico. Il bilancio di sangue è impressionante. La pulizia municipale da molto tempo è sotto organico. E poi, come abbiamo già visto, ecco qui, vince mezzo milione giocando al miliardario. Signora Settantenne centra il 17 in un bar del Lungomare. Sempre Giulianova e Gaspari replica alle accuse. Rispettato il capitolato. E poi, ex impiegata comunale deve risarcire 61 mila euro. A delle crocette di Giulianova è stata sanzionata dalla Corte dei Conti per gli ammanchi. E quindi a Tortoreto una presidente donna per far ripartire il calcio. Per la pagina degli spettacoli del Messaggero vediamo Desio e De Gregori al Blue Bar Festival. Due grandi star alla rassegna che inizia domani a Francavilla. Ci saranno anche Eugenio Finardi, Franz Di Ciocio e Drupi. Francesco Nazionale sul palco il 13 agosto con il fratello Luigi Grechi. Tutti gli eventi a Piazzale Sirena. E allora, prima di andare avanti, io vado a dare il buongiorno a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Andrea, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. E insomma, il meteo è stato uno degli argomenti principali degli ultimi giorni, per il calo di temperature, per l'impatto sulla notte bianca dell'Adriatico. Eh sì, Andrea, perché siamo stati interessati dal passaggio di un nucleo di aria fresca proveniente dalle isole britanniche che ha dato luogo a fenomeni anche di forte intensità, con rovesci intensi, che hanno in alcuni casi anche provocato danni. Quindi adesso la situazione però è in miglioramento, sta migliorando e migliorerà nelle prossime ore, anche se al mattino saranno presenti degli addensamenti, soprattutto sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante Adriatico. Non ci saranno particolari problemi lungo la fascia costiera. Tuttavia, nel corso della giornata, durante le ore centrali e nel corso del pomeriggio, assisteremo allo sviluppo di annuvolamenti consistenti sulle zone montuose con possibili rovesci temporaleschi, in estensione stavolta verso l'Alto Sangro, verso la Marsica, verso l'Aquilano. Quindi ci sarà spazio occasionalmente a fenomeni temporaleschi sparsi sul settore centro-occidentale della nostra regione. Sono fenomeni che poi si attenueranno in serata e in nottata e comunque anche la giornata di martedì sarà caratterizzata da un tempo ancora migliore rispetto a quello che abbiamo avuto nei giorni scorsi e che avremo nelle prossime ore. Quindi sarà una bella giornata, una bella giornata con qualche addensamento sulle zone interne e montuose durante le ore centrali e una giornata, ma le temperature saranno in graduale aumento, anche se il gran caldo è ancora molto lontano. Le temperature resteranno abbastanza gradevoli, complici i tassi di umidità che si attesceranno su valori medio-bassi, quindi una situazione con tempo decisamente gradevole. Oggi continueremo ad essere interessati ancora da 20 settentrionali in attenuazione in serata e in nottata nella giornata di domani. Ma attenzione Andrea perché a partire da mercoledì è previsto il passaggio di una veloce perturbazione proveniente dalla Francia che interesserà la nostra regione da mercoledì sera e nella giornata di giovedì, portando con tutta probabilità una nuova fase temporalesca sulla nostra regione. Ma di questa situazione ne riparleremo diffusamente nel corso dei prossimi aggiornamenti, Andrea. È presto per dire qualcosa sul Ferragosto, Giovanni? Sì, è ancora troppo presto. I dati attuali mostrano un possibile generale miglioramento del tempo a causa dell'espansione di un promontorio di alta pressione. Però non si possono fare previsioni al di là delle 48-72 ore con una buona attendibilità. Dobbiamo aspettare ancora qualche giorno e poi ne sapremo di più. Comunque la tendenza vista oggi con gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un provabile generale miglioramento del tempo. Ma ne dobbiamo riparlare, Andrea. Certo. Senti, per il tuo Pescara, tu cosa aspetti prima? L'arrivo dei difensori o degli attaccanti? Secondo me il reparto principale, il nodo cruciale è la difesa, che anche con l'amichevole col Cettavigo, pur giocando in una maniera, mostrando un bel gioco, vedo che la squadra ha assimilato già l'idea del gioco di Mister Oddo, in difesa però si compiono troppi errori e abbiamo bisogno sicuramente di un paio di rinforzi per garantire un reparto con maggior sicurezza. Perché poi in Serie A non possiamo avere una difesa che commetta errori come quelli che già commesso nell'amichevole col Cettavigo. Però si è visto buon gioco, in attacco il Mannheim è un bel giocatore, di ottime prospettive. Ripeto, sono ottimista per questa squadra, però abbiamo bisogno, a mio avviso, di un paio di difensori e anche di un'altra punta centrale di un certo spessore. Questo è il mio parere. D'accordissimo con te, Giovanni. Ti auguro una buona giornata. Grazie, Andrea. Una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie a Giovanni De Palma, è il momento di fermarci. Poi rientriamo, vediamo Gazzetta, Corriere e poi le pagine dei quotidiani locali con anche servizi e interviste. Ben ritrovati, di nuovo buongiorno. Ben ritrovati appunto con la rassegna stampa di Mattino 6, Gazzetta dello Sport, una prima pagina divisa in due. Il titolo principale è quello dedicato alle Olimpiadi, 201. Italia, due ori storici, Basile nel Judo, Garozzo nel Fioretto. Domenica trionfale, superato il traguardo, tanto atteso di primi posti, ma le gioie non si fermano qui. Cagnotto dalla Pe, grande argento nei tuffi sincro, Giuffrida, seconda nel Judo, Longo Borghini, bronzo nel ciclismo, dopo il terzo posto nella notte scorsa di Detti, nei 400 stile, nel volei distrutta la Francia. Cinque medaglie, giorno da superpotenza, è il commento di Fausto Narducci. L'altro titolo che caratterizza la prima pagina, Manciao, ribaltone Inter, la panchina a Frank De Boer, camoroso a due settimane dal campionato. Oggi l'annuncio al tecnico olandese, contratto triennale. Mancini ha già trovato l'accordo per la risoluzione. Poi ancora in basso, Pogba chiude con la Juve e del Manchester. Fatte le visite, oggi l'annuncio, i bianconeri battono il West Ham 3 a 2, Higuain ancora in ritardo. Il più caro trasferimento nella storia del calcio, 110 milioni per il francese. Poi, il proposito di Manchester, Ibra Gol regala a Mourinho la Supercoppa inglese, ma Ragneri cade in piedi. Altri richiami, Gabbiadini scatenato fa poker, nuova sconfitta all'arme viola, Balotelli si fa avanti il Chievo, ma c'è la concorrenza dell'Ajax. Vediamo anche all'interno, Tohir ce l'ha fatta, Dio Mancini, l'Inter passa a De Boer, con Mancio è finita, risolto il contratto, le ragioni dello strap, poi il modello Ajax nella valigia, storia di Frank Lesteta moderato. Poi, un resoconto di quello che è stato il Mancini bis all'Inter, la grande illusione dal ritorno del 2014 al nuovo addio, 21 mesi tra risultati deludenti e liti clamorose. Andiamo avanti a vedere le pagine sulle Olimpiadi, che caratterizzano chiaramente questi giorni. Se il grande Italia dacci il 5, in due ore 5 medaglie con Basile e Garozzo. Gli ori sono 201, sul podio anche per l'argento di Cagnotto Dallapè e Giuffrida, per il bronzo di Longo Borghini. Da gamba a Maddaloni, giudo, miniera azzurra di vittorie e talenti. Da 40 anni sul tatami non falliamo mai un appuntamento, e lo sport è entrato nell'immaginario collettivo dei praticanti. E qui vediamo la schiera di medaglie che sono arrivate ieri. Due ori, due argenti e un bronzo. Avanti ancora, ecco qui appunto, superpotenza azzurra sul tatami. Miracolo, Basile, Orsacchiotti e Cinema, così è nata una stella. E poi la medaglia d'argento Giuffrida, ballerina mancata, ma ora questa è la mia vita. Magico Fioretto, Brividi Garozzo, la gara perfetta è tutta d'oro. E poi ancora, argento e lacrime di gioia, Cagnotto Dallapè, scacciano i fantasmi, stavolta è medaglia. E poi il bronzo della gioia, fantastica Longo Borghini, resiste, rincorre, e terza, che grinta la Piemontese, si arrende a Van der Breggen e Johansson, staccata in salita, riprende l'Aebot sul traguardo, paura per Van Floyten. Possiamo lasciare in questo modo la gazzetta dello Sport, andiamo a vedere ora il Corriere dello Sport, che dà il titolo d'apertura alla vicenda legata all'addio di Roberto Mancini all'Inter. Nel momento del caricamento della pagina, Mancini, via c'è De Beurre, la situazione è precipitata dopo che Mancio ha rifiutato il rinnovo, ma senza poteri sul mercato. Accordo fatto con l'ex tecnico dell'Ajax, rivoluzione cinese, panchina all'olandese. C'è l'opinione di Andrea Ramazzotti, finale annunciato, scelta rischiosa per i nerazzurri. Poi sotto la testata, Ori d'Italia, i giochi di Rio azzurri scatenati, trionfano Basile nel Judo e Garozzo nel Fioretto, superati i 200 successi olimpici, Gagnotto dalla Peggio, Frida Argento, Longo Borghini bronzo. E poi il debutto del Pipita, Higuain in ritardo, la Juve va, West Ham KO 3 a 2, ma Allegri si arrabbia. In arrivo c'è Matuidi, Community Shield, Super Ibra, Festa Mou con Pogba. Il Manchester United supera Ragneri 2 a 1 e abbraccia il francese. In basso, come DS spunta Bigon, Milan, Badel, intesa vicina, caccia a Zaza. Roma, è arrivato Vermeilen, ora altri due colpi per Spalletti, mentre a Napoli è Gabbiadini show, poker nel 5 a 0 al Monaco, ma un tweet di banda, riapre la trattativa Icardi. Andiamo all'interno, vediamo qui Mancini a Dio, ecco De Burre, da quest'altra parte il Lanciere, vero Cavaliere, anti-diavolo. Andiamo avanti, superiamo la Community Shield, c'è anche la Coppa Italia con alcuni titoli, il Bari che vince con una rete dell'ex Lanciano Monachello, Bari 1, Cosenza 0, poi vittoria anche per l'ex tecnico del Teramo, Vivarini, che ora guida il Latina, che ha sconfitto il Matera per 1 a 0, Paponi stende Auteri, comunque gol partita di Paponi per il Latina di Vivarini. Ecco qui il Frosinone, un Frosinone subito esagerato, in gol Paganini, Frara e Daniel Ciofani su rigore, il Frosinone sabato 13, affronterà come detto all'Adiatico Cornacchia, il Pescara per il terzo turno di Team Cup. Possiamo lasciare il Corriere dello Sport, andiamo a vedere ora le pagine relative ai quotidiani abruzzesi, parliamo di Pescara, vediamo i titoli sul Pescara, poi andiamo con le immagini e l'intervista del Presidente Sebastiani. Allora, così il centro fari sulla difesa, Ghiomber e Gaston Silva, il Pescara vuole chiudere, i biancazzurri tornano sullo Slovacco da Roma e cercano di definire l'arrivo dell'uruguaiano in forza al Torino, rischia di saltare l'ungherese Gusmic. Il Presidente Sebastiani conferma nei prossimi giorni definiremo l'ingaggio di un paio di giocatori per sistemare il reparto arretrato. C'è poi il commento di Rocco Coletti, rinforzi subito per non mettere Oddo in difficoltà. E poi ancora, come detto, Coppa, sabato il Fosinone all'Adriatico, domani alle 20.30, ultimo test in trasferta contro Lavastese, ieri squadra a cena da Marinelli. La promessa Manai conquista tutti, Simoni ricorda Nordal, l'albanese in gol nelle ultime due Micheoli contro il Vicenza e il Celta Vigo, l'ex allenatore dell'Inter, stravede per lui, diventerà un grande attaccante. L'ho avuto nella mia Cremonese, in Lega Pro è forte, non ha paura di nessuno e la sua esuberanza è una qualità. Abbonamenti, ultimi giorni per acquistare le tessere, vicino a quota 7.000 e domenica si chiude. Questo per quanto riguarda il centro, vediamo ora il messaggero che apre lo sport con il Pescara. Ecco qui, Pescara si chiude per Silva, oggi nuovo contatto con il Torino per il centrale, dovrebbe arrivare in presidio con diritto di riscatto, vicino anche il 29enne difensore ungherese Gusmic. La società Bianca Azzurra attende solo la firma del contratto. Il DS Leone ci sta provando con il baby Alberto Grassi e il centrocampo dipende da Verre. Domani il test con la Vastese alle 20.30 allo stadio Aragona e poi Sebastiani garantisce i rinforzi sono in arrivo. E allora, torniamo alla partita di sabato sera, l'amichevole di Castel di Sangro. Tra Pescara e Celta Vigo possono partire le immagini. il tecnico Massimo Oddo nelle ultime due uscite con Vicenza e Celta ha approvato quella che può essere una sorta di formazione titolare. Al momento c'erano Code Zuperic come centrali, Zampano e Biraghi sulle corsie laterali, Bizzarri in porta. Poi a centrocampo Memushai, Verre e Brugman. In attacco Benali e Caprari a ridosso della prima punta Manai. Di contro c'era una squadra quotata come Celta Vigo, sesta classificata lo scorso anno nella Liga con 60 punti totalizzati. Squadra per questo classificata nel tabellone principale dell'Europa League. Abbiamo visto una conclusione di Verre dopo due minuti. Qui una parata di Bizzarri su un palone venenoso del regista del Celta Vigo Marcelo Diaz poi una buona azione con Manai che gioca di sponda con Benali palla di ritorno che non arriva a Manai torna sui piedi di Benali che impegna il portiere del Celta Sergi. E poi siamo al gol del vantaggio del Celta cross di Ugo Maio dalla destra e colpo di testa facile facile di Naranco al diciassettesimo Naranco peraltro aveva provato quattro anni fa con il Pescara ma non aveva superato il Provino era l'anno della Serie A in panchina all'epoca c'era Cristian Bucchi il Pescara reagisce un Pescara pericoloso con questa sassata di Memushai un Pescara che soffre nella fase difensiva ma che quando attacca in ripartenza si fa davvero apprezzare e qui vediamo un'altra azione pregevole di Manai di forza il suo suggerimento per Benali che impegna severamente Sergi Alvarez qui siamo proprio nel finale di primo tempo davanti alle oltre mille persone oltre mille spettatori allo stadio Teofilo Patini nella ripresa accade di meno ci sono anche tanti cambi qui un cross di Zampano su cui Manai non riesce ad arrivare questa è un'azione innescata da Crescenzi che era entrato nella ripresa Berre prolunga per il cross di Zampano clamorosa palla gol sciupata da Nicastro che era entrato anche lui nel secondo tempo e qui siamo al gol del pareggio al 28esimo Caprari affonda sulla sinistra mette in mezzo un pallone facile facile il gol di Ray Manai funziona questa coppia c'è grande intesa come si era visto anche a Vicenza anche in quel caso Manai era andato in gol su assist di Caprari e poi Manai si era procurato un rigore trasformato da Caprari però il Celtavigo dopo il pareggio si rimette a giocare con una certa attenzione precisione in attacco e arriva al gol con Iago Aspas sembrava fuorigioco ma in realtà c'era stato un tocco di Zampano che toglieva dalla posizione di fuorigioco Aspas poi Fiorillo alza un tiro di Bangondà e sostanzialmente questa è l'ultima azione Pescara a quel punto già infarcito di Cambi il fischio di Valeri di Roma per la fine di Pescara Celtavigo 1-2 nel dopo partita ha parlato il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha parlato e dell'amichevole col Celtavigo ma soprattutto ha parlato di mercato Presidente intanto una valutazione su questa prestazione sicuramente una buona prestazione contro una squadra che è sicuramente molto più forte della nostra almeno sulla carta è una squadra che è in Europa League nella Liga Spagnola mi sembra che sia arrivata tra le prime cinque quest'anno noi abbiamo fatto la nostra bella figura perché al di là dei due gol presi sia nel primo tempo che nel secondo abbiamo avuto le nostre palle gol è chiaro che c'è bisogno di un po' di tempo anche per i nuovi per entrare devo dire che al di là di tutti gli altri che conoscevamo oggi ho visto un grandissimo Manai che mi sembra abbia tutte le caratteristiche per poter fare molto bene una coppia che sembra già funzionare qualcosa da rivedere per la fase difensiva ma sì purtroppo nella fase difensiva sicuramente qualcosa dobbiamo migliorare dobbiamo migliorare anche perché non tutti gli elementi sono a posto fisicamente quindi ci sarà tempo anche per migliorare quella parte lì Guzmich Gaston Silva tutti gli altri nomi Bovo Gionber a che punto siamo ma io penso che questa settimana ci sarà modo di avere qui anche un paio di questi nomi di cui abbiamo detto e sicuramente metteremo a posto quella fase difensiva di cui si parlava prima se non altro numericamente perché sia il mister ma anche noi abbiamo sempre detto che con tutti gli effettivi attuali in buone condizioni questa sarebbe anche una difesa già a posto però siccome abbiamo queste situazioni è giusto cercare di prevenire in maniera tale da presentarci al completo all'inizio del campionato Trotta arriverà? Vediamo ci stiamo ragionando non solo su Trotta il nostro direttore i nostri direttori stanno lavorando moltissimo da questo punto di vista sappiamo che non possiamo dare la croce addosso a Manai che è al suo primo anno però oggi ripeto mi ha fatto molto piacere vedere una prova di questo ragazzo che ha fatto la guerra contro tutti ed era quella caratteristica che noi chiedevamo la nostra punta quindi se il buongiorno si vede al mattino l'ultimo per quanto mi riguarda anche questa sera Verre ha giocato bene a che punto siamo ci sono sviluppi su quel fronte? Ma Verre è un giocatore del Pescara io ho sempre detto l'abbiamo riscattato abbiamo investito tanti soldi su Verre è chiaro che i ragazzi quando hanno delle richieste importanti sicuramente qualche pensierino ce lo fanno però Verre sa benissimo che è il suo primo anno vero di Serie A in una squadra dove probabilmente il mister darà prima la maglia a lui e dopo agli altri dieci io se fossi in Verre ci penserei cento volte prima di andare via e ora parliamo di Lega Pro e di Teramo attraverso i titoli di Messaggero e Centro siamo sul Messaggero Teramo con Carraro la musica è diversa battuto il Pineto 2 a 0 nell'amichevole l'ingresso del fantasista scuote il gioco Zauli è presto per dare voti aspetto il rientro di Ilari sarà un valore aggiunto il mercato serve un centrocampista oggi incontro con Amadio Patron Campitelli il girone molto duro vediamo se la squadra avrà bisogno di qualcosa in più e poi le parole anche del tecnico del Pineto a Mazzalorso un po' di pazienza ma la squadra c'è e andiamo sul centro che titola anche in questo caso dando rilievo alla prestazione di Federico Carraro Teramo 2 gol e Carraro protagonista il trequartista entra e propizia la rete che sblocca il risultato Zauli ha qualità tecniche di categoria superiore il prolungamento del contratto in arrivo per Amadio che finora era sul mercato Campitelli assicura resta con noi entro mercoledì chiuderemo la trattativa e poi a Mazzalorso ok la fase difensiva allora vediamo il servizio di Jacopo Forcella e poi le interviste un teramo imballato abulico e poco in partita vince facendo il minimo indispensabile l'amichevole di Pineto contro i bianco-azzurri dell'ex Aldo Amazzalorso lo fa siglando le due reti decisive nel finale con il giovane Fratangelo e Condorazio a tempo scaduto ma il diavolo non convince e se quella con l'alba adriatica era stata una gara utile per qualche sperimentazione quella col Pineto mostra i limiti a tre settimane dallo start del campionato di una squadra ancora preda dei carichi di lavoro e che se dietro rischia poco altrettanto poco fa in attacco formazione più o meno base in avvio mancano e la ripetrella e la speranza ma l'undici di partenza assomiglia molto a quello titolare il problema che il 4-3-2-1 con Forte e Sansoveni dietro croce stenta a dare risultati apprezzabili la punta si danna l'anima ci prova al nono e al ventesimo senza inquadrare però lo specchio della porta spicca la regia di Amadio padrone di una lucidità in chiusura e proposizione merce rara nel calcio moderno Peterman e Di Paolo Antonio si vedono a tratti e il Pineto a buon gioco in chiusure mai davvero provvidenziali Caidi prova a far valere i centimetri centrale Sansovini si mette in proprio in chiusura di tempo diagonale a lato i Biancazzurri di Ammazzalo Orso dopo aver sofferto non eccessivamente ci provano in chiusura di prima frazione Antenucci trova l'esterno della rete sul corner Stacchiotti impatta ma non inquadra il bersaglio grosso tanti cambi nell'intervallo Zauli ridisegna la difesa entrano Scipioni Dorazio e Mangarelli e in corso d'opera i giovani Mantini Fratangelo e Cesarini la girata di Sansovini ancora lui è parata da parente così come il destro di Croce ma chi oggi sembra davvero l'uomo in più è Federico Carraro che si piazza tra le linee si muove gioca a palla tra i piedi la sua incursione al settantunesimo crea scompiglio nella retroguardia adriatica il servizio dell'ottantesimo invece libera Fratangelo in area di rigore il ragazzo si fa spazio e scarica alle spalle dell'estremo pinetese la rete del vantaggio Fratangelo che potrebbe raddoppiare nove minuti più tardi ma apre troppo il compasso quando spara verso la porta Dorazzi invece al novantesimo con la stoccata sotto misura ribadisce che l'annata passata è appunto storia chiusa ma sono le uniche note positive di una domenica pomeriggio nel quale il diavolo sembra aver fatto un piccolo passo indietro è assolutamente ingiusto dare voti in amichevoli in precampionato ma te lo dico anche se dopo Pescara ci hanno dato ma non giudico assolutamente le prestazioni per noi finisce una settimana molto impegnativa la squadra ha cercato di fare quello che proviamo non posso considerare dare voti a una squadra quando non posso chiedere brillantezza non posso chiedere aggressività che sono l'ABC del calcio moderno quindi per me era importante finire questa settimana bene abbiamo avuto pochissimi acciacchi il nostro obiettivo è quello di dare grandi volume di lavoro a quasi tutti i giocatori ci stiamo riuscendo e quindi il voto è su tutto questo non su un amichevole che lascia assolutamente il tempo che trova ma sia in un caso positivo che nell'altro però possiamo fare due nomi Fratangelo perché un giovane perché ha segnato e poi Carraro che si conferma una piacevole sorpresa ma forse Lamberto Zauli lo ha voluto proprio per questo Fratangelo è un ragazzo del 98 che da subito ma non c'è solo Fratangelo ci sono c'è Mantini c'è Tini c'è Cesarini tutti i ragazzi del 98 che si stanno inserendo bene che stanno crescendo che hanno la pazienza di guardare i più grandi Fratangelo oggi si è messo in mostra ha qualità fisiche sopra la media ha qualità tecnica e quindi sono risorse molto importanti per il Teramo e ha sottoscritto il mio staff e fa piacere poter contribuire alla loro crescita per quanto riguarda Carraro è un giocatore che conosco da anni è stato il mio avversario in questi anni gli ho sempre notato una qualità tecnica di categoria superiore e quindi quando ci siamo incontrati per costruire la squadra era un nome che avevo fatto sono contento che sia qui è un ragazzo che deve fare ancora tanto non si deve accontentare di niente ha qualità per fare un campionato da vertice ma da protagonista ma aspetta soltanto lui dovrà allenarsi tutti i giorni con grandissima determinazione per poter essere importante per il Teramo Aldo Mazzaloso come vede il Pineto che cresce quest'anno come l'ha visto contro il Teramo in ascesa? beh rispetto all'ultima prestazione si è senz'altro molto meglio molto più in campo con la testa e con le cervelle insomma dobbiamo ancora migliorare tantissimo specialmente la fase di costruzione e di conclusione la fase difensiva l'abbiamo fatta bene noi dobbiamo lavorare molto di più sull'altra fase però devo recuperare la forma alcuni ragazzi che sono stati acciaccati poi qualcuno tipo di sante ci mancava per verificare un po' il valore effettivo degli attaccanti abbiamo visto facciamo un nome su tutti ci ha stupito parecchio questo Ciarcelluti questo ragazzo del 97 creato davvero lo scompiglio nella retroguardia del Teramo si è andato bene oggi ma anche le altre due partite diciamo ha fatto il suo mi aspetto molto di più da tutti specialmente dalla metà campo in su però dobbiamo trovare una condizione migliore quindi ho la pazienza per aspettare rush finale della nostra segna stampa ultimi 5 minuti circa torniamo sul centro Marcianese sia alla fusione col nuovo Lanciano la società di prima categoria pronta a rinforzarsi vuole giocare al Villa delle Rose in giallo blu e poi ancora la serie di ganci l'Aquila voglia di vincere l'ex pescara pronto a giocare in ogni ruolo dell'attacco sono tornati in campo dopo la scodifica di due anni grazie ad una grande forza di volontà poi il Lavezzano con le gambe pesanti piace Bittai a centrocampo pari nel test contro il Monte spaccato 2 a 2 il finale in gol per Lavezzano Aquino e di Genova in basso Chieti Mariani il mio Chieti sarà squadra da battaglia il nuovo tecnico partire in ritardo non mi spaventa ma voglio gente che in campo combatte sarà lui l'anenatore del nuovo Chieti targato Giacomini alla presidenza sempre per la serie D va stese quasi a posto manca un esterno con la vitto o buone individualità ma bisogna essere subito squadra e domani ci sarà l'amichevole con il Pescara San Nicolò Tris diretti al Francavilla doppietta di Moretti e poi ancora per i direttanti movimenti di mercato Bolzan torna al Paterno Grossi e Verna a Migliani con i marsicani si sono assicurati anche i leggiori d'attacco De Iorio altre conferme per l'acqua e sapone il terzino Mancini passa al Montorio 88 e in basso l'attaccante Daniel Alfredo Margherita dice sì al Palombaro lo sportore dopo l'infortunio di Vespa pensa a Zanetti diverse novità nell'alba Montaurei avanti ancora con il basket Roseto il terzo lungo potrebbe essere Fattori cambio degli esterni sarà May si cerca un 4 americano il torneo di A2 Abruzzesi in seconda fascia nel Gironest dei grandi nomi si riparte da tre confermi invece a Giulianova le conferme sono quelle di Cianella Magazzini e il veterano Danilo Gallerini le parole del presidente dell'amatori Pescara Di Fabio che è soddisfatto l'amatori si è rinforzata il presidente ottimista in vista della sesta stagione consecutiva in Serie B tornando alla A2 Davis voglio essere il leader del Chieti dalla piccola Texana pronta all'avventura con la Proger poi Campli pronto il calendario delle amichevoli fitto programma fino al tradizionale torneo Nino di Annunzio Ortona la Weir ha completato il roster 4 volti nuovi nella formazione di coach Di Salvatore poi Teramo 1960 l'obiettivo è la salvezza il DG Filippelli niente proclami ma vogliamo riportare il pubblico al palazzetto avanti ancora con il rugby l'Aquila e Gran Sasso per un derby storico il coach Neroverde Rotiglio con Zaffiri e Troiani stiamo facendo un ottimo lavoro il tecnico Grigio Rosso gli annunci la partita di campanile sarà soltanto una tappa e andiamo a vedere anche gli altri titoli del messaggero che parla anche di calcio a 5 vediamo qui acqua e sapone record di convocati per i mondiali la società della famiglia Barbarossa ha sette elementi selezionati su tutti il numero uno dei numeri uno ovvero il portiere Mammarella tra i convocati appunto sulla serie D Chieti Mariani si presenta una squadra di guerrieri il tecnico in ritiro tra allenamenti al giorno per recuperare il gap e poi ancora Vastese ecco i nuovi innesti per la squadra di Colavitto l'Aquila primo test positivo finisce 3 a 3 la Michele ha scoppito con la Miternina Morgia soddisfatto il trainer sta lavorando su un modulo a tre punte e alla fine c'erano soltanto i ragazzi San Nicolò Moretti e Chiacchiarelli gol battuto il Francavilla il team di Epifani mette Fieno in cascina e andiamo a vedere anche le ultime due pagine del messaggero la leggenda spacchia del Roseto appunto patrono Alcini nel cuore dagli Stati Uniti alla Croazia passando per Roseto il coach è attualmente il vice degli Atlanta Hawks non c'è nulla di paragonabile alla NBA voglio vedere come andranno i rookies rosetani e poi Sharks arriva alla guardia May e sul fronte Proger la Proger prepara una stagione da protagonista chiede il giusto mix tra giovani americani e la vecchia guardia e poi questa esperienza particolare di Blasio una bruzzese alla corte di Michael Jordan il tecnico rosetane una esperienza che non dimenticherò e poi ancora 800 giovani promesse nel cuore del CONI grande successo nel campus organizzato a Pescara con la partecipazione straordinaria dei tecnici federali e poi tornando al calcio Real Giulianova Angelone c'è da lavorare Presidente Bartolini non voglio perdere luci e ombre del Giulianova dopo i primi test e qui alcuni dei colpi più importanti del Real Giulianova il centrocampista Girolamo D'Alessandro e l'attaccante romano Tozzi Borsoi finiamo qui la rassegna stampa di mattino 6 vi ricordo gli appuntamenti del TG6 alle ore 14 alle ore 19 e alle ore 23 io ringrazio in regia Gianni D'Areo e ringrazio voi per la cortese attenzione buona giornata grazie a tutti grazie a tutti